Grazie Presentiamo oggi al Santo Padre il restauro del portone e del portale di ingresso al Palazzo Apostolico E' l'ingresso ufficiale, lo è sempre stato dal Rinascimento a oggi L'intervento che Benedetto XVI ha voluto compiere da maggiore lustro a quella che è la storia e l'importanza del Palazzo Apostolico Grazie